Ciao cari amici, purtroppo il mondo anche oggi ci regala l'ennesima dose della follia, l'ennesima dose dell'informazione che ci fa pensare di un futuro cupo, di una realtà apocalittica a mio avviso, che tra l'altro qualche tempo fa sembrava fantascienza, in effetti realtà che spesso veniva usata da vari registi come un elemento di film, di pellicole fantascientifiche che però oggi noi ormai vediamo di realizzarsi in vita reale. Io parlo dell'utilizzo dei robot in guerra e precisamente vorrei oggi parlare dell'articolo che è uscito su New York Post, l'articolo abbastanza preoccupante, nel quale si parla con anche un certo entusiasmo, se si può dire, della prontezza dell'Ucraina di sguanzagliare un branco di cani robot britannici sul territorio della Russia. Io quando ho letto questo articolo ho detto no, non è vero, non può essere, si tratta di qualche presa in giro, invece no, è la verità assoluta. Praticamente, cari amici, c'è un'azienda britannica, voi sapete innanzitutto che l'Occidente fornisce all'Ucraina l'attrezzatura militare e anche diverse tecnologie. L'Ucraina di recente, ad esempio, ha testato un drone reattivo, se qualcuno di voi crede veramente che l'Ucraina è un paese che ormai non ha la propria economia, dove ormai non c'è più normale fornitura di energia elettrica, è in grado di fare qualcosa dal punto di vista di industria bellica, vuol dire che non avete capito niente di questa situazione, di questa guerra. È chiaro che l'Ucraina da sola ormai è precipitata, crollata, non può fare più niente, non ha più economia. Se l'Occidente smette di mantenere l'Ucraina completamente, in tempo di una settimana, questo paese smette di esistere, perché non riesce a semplicemente mantenere se stesso, la propria struttura. Quindi, quando si parla di un'arma ucraina che è stata creata in Ucraina, quando vogliono convincerevi che gli ucraini hanno dei scienziati, dei laboratori, dei programmi di lavoro, tutto questo è una becera propaganda. Tutto ciò che riceve l'Ucraina, tutte le tecnologie, e chiaramente sono le tecnologie occidentali, sono gli apparecchi occidentali, le armi occidentali, materiale occidentale, che in Ucraina viene semplicemente sperimentato, in prima linea, in guerra, per poi essere migliorato e utilizzato nelle future guerre dalle occidentali. Così fanno anche i russi, in realtà. I russi, difendendo il proprio territorio e i propri interessi, usano ampiamente la guerra ucraina per migliorare le proprie armi, le proprie capacità tecnologiche, la propria strategia. Sono molto interessati anche i cinesi a questa situazione. Io di recente vi ho raccontato di un gruppo di militari cinesi che sono presenti in prima linea, che vengono addestrati da curatori russi, che parlano cinese, gente che proviene dai servizi segreti militari, evidentemente. Sono molto interessati soprattutto al lavoro di squadra contro i droni. capiscono benissimo che i droni è un importante meccanismo delle guerre future, è una nuova aggiunta a ciò che già rappresentava l'artilleria, ovvero un'arma di base per distruggere il nemico a distanza, senza essere coinvolto in una battaglia diretta. I cinesi sono molto interessati a queste tecnologie, quindi sono molto presenti, anche loro cercano di capire strategie, capire tecnologie, migliorare e così via. E quindi l'Occidente fa lo stesso, l'Occidente manda in Ucraina le proprie armi, manda in Ucraina i propri specialisti, manda in Ucraina i propri dati, le proprie informazioni satellitari, tutto viene fatto con un unico scopo, cari amici, continuare la guerra contro la Russia, danneggiare la Russia al massimo possibile quando questo si può fare e quando non si può fare almeno coinvolgere la Russia, trattenere la Russia in Ucraina. L'Occidente, come avete visto anche dalle notizie che arrivano, io spesso sul mio canale privato Telegram pubblico video, le foto, l'Occidente utilizza i mezzi militari, cerche di migliorare questi mezzi militari, cerche di adattarli alla guerra moderna, io parlo di carri armati, io parlo anche di blindati leggeri, di sistemi robotici, di droni e così via. Quindi gli ucraini di recente hanno fatto un drone con motore reattivo, l'hanno sperimentato, hanno chiamato questo drone Palinitsa se non sbaglio. Io ho guardato questo drone, ho visto come loro l'hanno utilizzato, loro dicono che probabilmente l'hanno già utilizzato anche nel regime di combattimento contro il territorio russo, è un drone chiaramente creato non dagli ucraini, e gli ucraini stessi lo affermano. Perché? Perché è chiaro che questi droni adesso saranno lanciati sul territorio russo, i russi li abbatteranno, li studieranno, e quando li faranno a pezzi questi droni per vedere di quali parti sono fatti, usciranno fuori i dettagli prodotti in Occidente. Chiaramente perché l'Occidente può produrre, l'Ucraina non ha più nessun tipo di produzione industriale seria a livello per poter creare questi droni. Loro ancora riescono a fare nei garage, nei vari piccole fabbrichette, i droni FPV, le fanno anche molto bene in grande quantità, ma anche lì i componenti arrivano dall'Occidente. Gli ucraini non riescono a fare i motori, gli ucraini non sono in grado di fare, di usare i sistemi di precisione elettronici, tutto questo li fornisce l'Occidente. Quindi anche questo articolo in cui io ho letto di ciò che gli ucraini vorrebbero fare con i nuovi cani robot, che sono stati portati in Ucraina da questa azienda britannica. in me ha suscitato dei ricordi di alcuni film, di alcune pellicole del passato che riprendono proprio questa tematica. quando le macchine iniziano a essere utilizzate per eliminare gli uomini seguendo certi programmi al di fuori di controllo dell'operatore, cioè individualmente. Questo è un primo passo verso l'Apocalisse perché l'uomo, cioè una parte che usa i meccanismi militari, affida alla macchina tutto il processo di uccisione del nemico. E qua uno si domanda ma l'etica militare come guarda su questa cosa? Giusto seguire ogni mezzo per distruggere il nemico? oppure è giusto comunque stare attenti al fatto che nel processo di eliminazione del nemico è molto importante che un essere umano abbia controllo totale dell'arma e delle soluzioni che si fanno. Alcuni dicono ma usare questi droni è come usare la bomba? bomba mica anche bombe autonome plananti funzionano così? Adesso ho pure un missile li inserisce il piano operativo il percorso operativo questo fa percorso operativo e poi da qualche parte lì lontano uccide gli esseri umani ma mica voi siete presenti? è la tecnologia che lo fa è vero anche che persone che discutono su questo dicono sì va bene questa è la tecnologia però comunque tecnologia che viene impostata lanciata dall'uomo è tecnologia che funziona come un proiettile di artilleria un po' diciamo un po' più migliorato ma questa bomba non viene lanciata da sola a cercare diciamo i bersagli e a decidere chi colpire o chi no mentre un robot un sistema robotico che sarà mandato in prima linea o peggio oltre la prima linea ad ammazzare gli uomini si troverà di dover gestire un programma quindi noi avremo un'autonoma un sistema autonomo robotico che girerà su un territorio con carica esplosiva oppure con una fucile metragliatrice montata sopra che attraverso un programma sofisticato dovrà individuare i bersagli e distruggerli per cui questa è più di una bomba questo è un sistema meccanico robotico elettronico con una sua intelligenza artificiale che dovrà prendere la decisione che in realtà dovrebbe essere preso da un uomo già ragionando dal punto di vista morale nessun uomo dovrebbe prendere questa decisione drastica e terribile di uccidere un altro uomo ma se noi mettiamo da parte le discussioni dell'etica di guerra ci mettiamo d'accordo sul fatto che si due eserci si scontrano non c'è possibilità di fare trattative si ammazzano e uno comincia a usare questa intelligenza artificiale per distruggere gli altri esseri umani quanto è etica questa cosa se voi lanciate i robot in una zona dove loro devono individuare e decidere chi sarà ucciso e chi no e se incontreranno i civili cosa succederà siamo sicuri al 100% che questi programmi che avranno all'interno queste macchine riusciranno a distinguere tra un civile e un militare siamo sicuri che questi sistemi di mira sistemi di rilevamento che avranno questi robot saranno abbastanza sottili e precisi per poter distinguere tra un militare e un civile oppure se un militare vorrà rendersi cosa farà questo drone lo ucciderà lo stesso se un militare getterà le armi a terra questo drone sarà in grado di cambiare il proprio compito oppure lo ucciderà queste ovviamente sono domande che molti adesso si fanno perché si parla di questa nuova deriva di questi droni ci sono in realtà diversi droni su varie piattaforme ci sono droni su piattaforme mobili cingolati ci sono droni come questi i cani robot che si spostano a quattro zampe come veri cani tra l'altro su questi droni già si montano mitragliatrici loro già hanno possibilità di sparare contro i bersagli quindi è possibile che un cane robot una cosa piccola girerà da qualche parte in prima linea quando vede un soldato li spara questa ormai è la realtà e poi loro possono anche trasportare grandi quantità di ordigno e far esplodere questo ordigno funzionare diciamo come un po' come droni fpv che volano questi però saranno un po' più costosi questi droni perché drone drone cane costerà un po' di più di drone fpv ma funzionerà più o meno allo stesso modo e giustamente New York Post scrive di questo nuovo dibattito perché adesso gli ucraini hanno dichiarato che hanno più di 30 cani robot ognuno di questi costa 9000 dollari che come vi ho detto non è un costo esagerato sono prodotti dall'azienda Brit Alliance e sono già presenti sul campo di battaglia quindi cari amici sottolineo non si tratta di una cosa che deve arrivare domani si sta discutendo su come inserire sistemi robotici no no si trovano già sul campo di battaglia e vengono già utilizzati questi cani diciamo per adesso vengono utilizzati come dei droni ambulanti quindi loro vanno contro loro non hanno diciamo un operatore che le segue non è come un drone FPV che viene seguito da un operatore che lo muove questo drone vola dove li dice operatore questi droni hanno un percorso operativo hanno un programma sono completamente autonomi gironzano in una zona e in pratica riportano in tempo reale le informazioni nella sala operativa dove ci sono persone che elaborano questa informazione questa è già la realtà quindi immaginate un drone con un'autonomia di batteria protetto da un sistema tra l'altro hanno una corazza che li difende dalle armi leggeri per cui se voi lo sparate non morirà facilmente non sarà distrutto facilmente e questo drone per adesso in Ucraina viene utilizzato solo come un drone d'osservazione e segnala rapidamente diciamo quello che sta succedendo nella zona può entrare nella zona del nemico rileva le mine può rilevare le mine quindi può evitare le mine e gli ucraini hanno iniziato anche a utilizzarlo per fare le consegne veloci ai rifornimenti ai riparti perdonatemi che si trovano in difficoltà magari in qualche settore del fronte in una sacca tattica dove è molto difficile passare da un militare ad un soldato questo drone può portare una quantità limitata ma comunque una quantità importante del materiale può portare due bottiglie d'acqua sei caricatori un po' di bombe a mano oppure una radio per il contatto con il comando centrale nel caso se il riparto è rimasto da solo senza radio senza mezzi di comunicazione insomma questo drone può radicalmente cambiare la situazione di un riparto circondato e viene già utilizzato per questo e c'è un comandante che adesso un comandante ucraino che si chiama Kurt & Company questo riparto ucraino che si occupa proprio di questi droni ovviamente si tratta di un comando di militare sperimentale che lavora in stretto contatto con l'agenzia che produce questi droni loro li usano sul campo e poi riferiscono all'agenzia quale sono parti deboli momenti deboli cosa bisognerebbe cambiare cosa bisognerebbe migliorare quindi sono in pratica cari amici questi militari ucraini sono collaboratori dell'industria bellica occidentale che sta sperimentando in prima linea questi droni e aiuta di migliorarli il comandante di questa unità ha fatto un'intervista di New York Post ha detto che la sua squadra sta lavorando per utilizzare adesso questi droni come i diciamo droni kamikaze lui li ha chiamati così anche se spesso parola kamikaze viene utilizzata in maniera sbagliata non per quello che è il suo senso originale ma comunque avete capito di cosa si tratta si tratta di un drone che dovrà portare una quantità di esplosivo sotto i veicoli di forze militari russe veicoli corazzati e farsi esplodere con queste cariche anticarro questo drone potrà entrare sotto i blindati sotto i carri dove la corazza dei veicoli è molto più debole rispetto alla corazza frontale o laterale e quindi loro veramente sperano di ottenere dei successi il problema è che per mandare i droni contro i carri loro li devono prima programmare proprio per questo quindi stanno lavorando adesso sulla programmazione di questi droni si tratta sempre cari amici di un drone un robot un robot che girerà seguendo un suo programma per distruggere gli esseri umani e i mezzi degli esseri umani la compagnia Brit Alliance ha anche affermato che il primo utilizzo di canne robot nel conflitto in Ucraina è stato già approvato con successo l'azienda spera di sfruttare questo successo basandosi sul feedback dei militari e fornirà probabilmente altri droni ormai come droni da attacco droni d'attacco vuol dire che avranno le armi leggere posizionati sulla schiena il direttore di questa azienda che si chiama Brit Alliance lui si chiama Kyle Thornburn ha detto poco tempo fa che i robot non sono stati progettati con armi ha detto che in realtà li abbiamo progettati come strumenti per salvare le vite umane sul campo di battaglia ma poi alla fine hanno visto che questi funzionano bene anche come le armi voi sapete che in occidente quando si tratta di fare le armi tutto il resto viene messo da parte e l'industria bellica procede quindi cari amici siamo di fronte a praticamente un annuncio che i britannici forniranno dei veri robot da combattimento all'esercito ucraino e l'esercito ucraino lascerà questi robot lavorare nella soprattutto direzione di Kursk loro vogliono farli usare lì quindi parliamo di utilizzo dei specie di Terminator a forma di cane contro gli esseri umani siamo veramente fuori da qualsiasi da qualsiasi senso umano io mi ricordo che tempo fa non mi ricordo quanti anni fa era forse 5-10 anni fa non ho memoria sul momento esatto io guardai una serie di una di una serie televisiva fantascientifica adesso probabilmente era una serie britannica che si chiamava Dark Mirror o Black Mirror Black Mirror dove c'era una puntata ogni puntata di questa serie è come un piccolo film a sé non messo in relazione con gli altri e quella era dedicata a un mondo dove proprio questi cani robot armati con tutta una serie di armi con lanciafiamme con metragliatrice diciamo hanno preso il potere nel mondo perché qualcosa è successo con il loro programma e gli esseri umani non erano più in grado di vivere serenamente perché questi cani hanno invaso praticamente il pianeta e semplicemente per andare al supermercato a rifornirsi di cibo bisognava fare tutta una operazione militare e questi droni rilevavano la presenza di umani ovunque e li sterminavano ovunque e io quando ho letto l'articolo di New York Post prima cosa che mi è venuta in mente le immagini proprio le immagini di questo film di questi droni che si muovono bisogna dire che questi droni ci sono già in Cina cinesi nell'esercito ormai li usano ampiamente per adesso ovviamente solo come il materiale di sperimentazione e di esercitazioni però questi droni io ho pubblicato anche il video sul mio canale privato Telegram tempo fa di esercitazioni militari svolte con questi droni cinesi questi sparano questi colpiscono gli obiettivi obiettivi in movimento insomma si tratta di macchine da guerra che potranno uccidere gli esseri umani amici stiamo andando a tutta velocità verso l'apocalisse se non sarà per la guerra nucleare comunque noi esseri umani abbiamo già creato talmente tante macchine di morte che secondo me sarà molto difficile uscire da questa storia illesi e non so come voi ma io personalmente sono molto colpito negativamente da come l'uomo sempre riesce a impegnare la propria intelligenza le proprie risorse nella costruzione degli apparati di morte di uccisione di propri simili se noi avremmo eliminato la guerra l'avremmo sostituita con qualche altro sistema di equilibrio sociale e politico nel mondo noi probabilmente potevamo già non so scoprire la vita eterna o qualcosa del genere avremmo già potuto almeno sconfiggere la gran parte delle malattie che rendono la vita dell'uomo così breve e così precaria questo è sicuro ma invece niente da fare siamo ancora lì sul stesso livello di nostri antenati che si prendevano ammazzate con le clave perché non erano in grado di parlare perché non erano in grado di applicare qualcosa di più evolutivo noi seguiamo sempre stesso percorso di guerra alcuni lo chiamano evoluzione l'altro giorno ho parlato con un mio caro amico mi ha detto Nicola è la guerra fa parte di evoluzione umana no non fa parte questo non è evolvere questo vuol dire rimanere sempre a stesso livello di degrado solo applicare diversi metodi e diversi materiali e diversi meccanismi vuol dire che dal punto di vista tecnico siamo cresciuti ma non siamo evoluti siamo rimasti sempre degli idioti che si ammazzano tra loro quando potevamo già magari esplorare lo spazio raggiungere importanti livelli nella nella sanità capire finalmente chi siamo da dove viviamo perché siamo su questo mondo scoprire l'universo niente investiamo tutto per ammazzarsi e un'altra cosa cari amici alla fine vorrei raccontarvi così la mia impressione di recente ho letto di questa tentazione di Elon Musk di cipare tutti e lui parla di questo cip dicono come una grande rivoluzione grande cosa sapete molte persone sono vedo entusiaste per questa cosa ma io leggo anche su internet molti scrivono sì ma io mi farei inserire il cip ma che bello è una figata sapete cosa che mi turba che cosa crea in me un enorme sospetto e disperazione è che primi prime persone a cui sono stati inseriti questi micro cip la prima cosa che hanno fatto è iniziare a giocare a giochi di guerra altro giorno Elon Musk ha condiviso il video per dimostrare che una delle persone a quale è stato applicato questo cip un paraplegico uno che non può muoversi guardate che bello adesso riesce a giocare a un videogame di guerra io dico ma cavolo ma fatele fare qualcosa di diverso almeno guidare un'auto fatele passeggiare in un mondo 3D non so in mezzo alla foresta nuotare fateli fare qualche non so qualche calcolo matematico comporre una musica suonare uno strumento leggere scrivere niente prima cosa che ha fatto giocare a un gioco ammazza tutti e questo mi toglie la fiducia nell'uomo questo mi toglie la fiducia nel fatto che tutti questi tutte queste grandi scoperte grandi tecnologie poi saranno utilizzati per il bene io non penso che dietro a queste idee c'è l'onestà e la volontà pura di aiutare l'essere umano io credo che si nascondano soliti meccanismi di potere trasformare gli umani nelle armi perfette contro i propri simili creare le guerre tra i poveri limitare la vera scienza e finanziare solo la scienza che lavora agli interessi degli oligarchi stiamo parlando di un mondo comunque apocalittico perché stiamo andando sempre verso l'autodistruzione grazie amici per la vostra attenzione come sempre vi invito alla fine dei miei video di informarvi in modo obiettivo io sul mio canale privato telegram condivido molta informazione che di solito viene censurata nascosta o strumentalizzata dai nostri giornalisti dal nostro mainstream corrotto il link per abbonamento al mio canale si trova nella descrizione a questo video se volete seguirmi qua su youtube vi invito ad iscrivervi al mio canale di commentare i miei video condividere i miei video con i vostri amici vi ringrazio per la vostra attenzione per la vostra preziosissima opinione per i vostri commenti per le vostre donazioni tutto questo è molto importante per me per il mio lavoro su questa piattaforma online vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene